La provincia di Cremona ha pianificato oltre 20 milioni di euro di investimenti sul porto di Cremona partendo dalla consapevolezza che innanzitutto questo è il porto più importante tra i porti interni, il più grande d'Italia, movimenta circa un milione di tonnellate l'anno ed è collegato attraverso il fiume più importante d'Italia al mare Adriatico. Certamente sappiamo che oltre agli imponenti investimenti che stiamo facendo sul porto e specificamente sul terminal ferroviario, su tutte le piattaforme, sulle banchine, sui piazzali e sui capannoni oltre a tutto questo che noi stiamo facendo bisogna completare l'investimento che tutto il nord Italia attende da tempo e cioè quello della regimazione del fiume, quindi la trasformazione del fiume in via navigabile 365 giorni l'anno. Per questo è necessario un grande project financing, un project da un miliardo e mezzo di euro su cui la nostra provincia da sempre è favorevole, altre province in passato hanno espresso alcuni nubi ma oggi politicamente abbiamo trovato un equilibrio garantito anche dalle due regioni, in particolare dalla regione Lombardia. Quali sono gli interventi principali? Gli interventi principali riguardano la realizzazione, come dicevo, del terminal ferroviario per circa 14 milioni di euro. Il terminal verrà realizzato attraverso la costruzione di 5 nuovi binari, un fascio di binari di una lunghezza media tra i 300 e i 600 metri e oltre a questo avremo quindi anche la ricollocazione dello scalomerci da Cremona su Cavatigozzi. Questa nuova opera si collega all'altra grande opera che la provincia di Cremona sta facendo di raddoppio del binario che collega appunto la città di Cremona con la zona di Cavatigozzi. Oltre a questo investiamo circa 5 milioni di euro nelle manutenzioni del porto in quanto tale. 600 mila euro per i rifacimenti dei tetti dei capannoni, 400 mila euro per il rifacimento degli impianti antincendio, un milione e mezzo di euro per il rifacimento totale dei piazzali, quindi per il recupero di tutte le parti asfaltate, 70 mila euro dedicati al ripristino e al rifacimento di quasi tutta l'illuminazione. Insomma un'area importante di questa città che si colloca al centro dell'equilibrio economico del nostro paese è sicuramente un punto di Europa dentro l'Italia, un punto in cui oltre a parlare di ferro e di gomma si parla anche di trasporti attraverso acqua, cioè di quella prospettiva che dà sviluppo alla nostra economia ma che sa rispettare l'ambiente.